...debitativa dire che lo si accetta solo come la comandazione. Lui mi direbbe che è tutto un troneo. Se il Governo intende precisare o rispondere, altrimenti a questo punto... Prego. Parliamo dell'ordine del giorno 16? Sì, il 16 Palmieri. Se inseriamo impegni al Governo a valutare l'opportunità, lo accogliamo come ordine del giorno? Lo accogliamo, quindi col parere favorevole, quindi accolto con riformulazione. Bergamini, favorevole Savino, Sandra, accolto come raccomandazione, va bene? Onorevole Palmieri, prego. Anche qui per chiedere un parere, siccome sul successivo Carfagna c'è l'accoglimento pieno e il successivo Carfagna tratta anch'esso del cosiddetto revenge porn, allora ci chiediamo il perché del parere di forza. Sottosegretario chiede la parola, prego. Sì, in effetti accolgo il parere favorevole. La ringrazio. A questo punto, favorevole Savino, favorevole Carfagna, Silvia Giordano, prego onorevole Cozzolino. Non accogliamo nessuna riformulazione, quindi chiediamo di mettere ai voti tutti in ordine del giorno. Quindi si intendono tutti i pareri contrari a questo punto. Quindi, Silvia Giordano è il numero 20, apro la votazione, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario a questo punto del Governo. Grazie. 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 Grazie.